Diciamoci la verità. Se non ti laurei entro i 28 anni, sei uno sfigato. Questi giovani sono l'Italia peggiore. Non trovano lavoro perché stanno bene a casa. Mandiamo i bamboccioni fuori di casa. Siamo il paese dei bamboccioni. Vogliono il posto fisso vicino a mamma e papà. Sanno parlare a malapena l'italiano. Il posto fisso per tutta la vita è monotono. Vorrei sedermi su quella sedia ma non posso. Guarda io come sto comodo. Foscolo, fottiti.